leo il camion curioso e le macchinine a scontro corriamo tutti al parco giochi perché guardate c'è un nuovo gioco le macchinine a scontro e robot arrivano per primi e salgono subito sulle macchinine ma ce ne sono solo due ci dispiace robot rosso su questa si è seduto il tuo amico e l'altra è stata occupata no non vogliamo vederti così triste non te la prendere così leo dobbiamo aiutare ciao perché sei così triste una macchinina a scontro tutta tua? ci pensiamo noi certo ecco tutto quello che serve per costruirne una nuova la base con il i paraurti di gomma dove dobbiamo montare dove dobbiamo montare le tre ruote sopra mettiamo il telaio rosso poi il sedile per il guidatore e il volante è stupenda guardate mettiamo le luci frontali e le luci posteriori ciao amici il robot rosso è pronto ad entrare in pista ma che sta succedendo cos'è che non funziona leo guarda attentamente ma certo abbiamo bisogno di un'antenna gialla per l'elettricità sì il motore senza elettricità non può muoversi andiamo a cercarla vicino allo scivolo non c'è niente no leo dice il robot aspetta prendiamo la trave dell'altalena che cos'è questo? no non buttarla è l'antenna che cerchiamo l'abbiamo trovata inseriamo l'antenna nel telaio e le macchine a scontro sono tre il robot rosso può giocare felice con i suoi amici grazie leo al prossimo gioco sarà meraviglioso ciao